Docazzulla ha cominciato una serie di puntate che immagino molti di voi avete visto sulla 7 intitolata Una giornata particolare, ha cominciato nell'autunno scorso, nell'inverno e dovendo organizzare un evento grande e importante al festival io ho detto ma scusa 8 settembre 2023, 80 anni dopo l'8 settembre del 1943, è una giornata particolare perché non facciamo un grande evento di Aldo Cazzullo dedicato a questa giornata? E lui ovviamente con grande disponibilità e generosità ha accettato e questa sera abbiamo Aldo Cazzullo Grazie, grazie Danco, grazie Rosangela, grazie per questo mondo che avete inventato, per questa comunità che avete costruito e grazie a tutti quanti voi, io non sarei mai venuto a sentirmi questa sera, sarei andato a vedere i fuochi, ecco mi sono molto grato per questo E' vero, 80 anni fa, in questi stessi giorni, l'Italia era messa di fronte a una prova drammatica, terribile E noi italiani siamo molto bravi a denigrarci, adoriamo parlare male di noi stessi Certo, l'8 settembre fu una catastrofe tale che offre parecchio materiale, parecchio argomento Però noi siamo bravissimi, proprio a vedere sempre le cose negative, a criticare gli italiani Sono sempre gli altri, era il titolo dell'ultimo libro di uno che ci conosceva bene, Francesco Cossiga Noi non diciamo sempre mai, non diciamo mai noi italiani, diciamo gli italiani, gli italiani sono gli altri Fateci caso, nei talk show non si dice mai il nostro paese, si dice questo paese, come se l'Italia fosse una cosa diversa rispetto a noi Certo, la possiamo criticare soltanto noi, se poi la critica un francese, uno straniero, allora ci restiamo male L'Italia come la mamma, soltanto noi la possiamo criticare, siamo come Cyrano quando diceva Io mi fovanto di dirmene da me, facendone anche incetta, ma non permetto mai che un altro si permetta E poi abbiamo questa grande abitudine, questo talento nel trovare i capri espiatori La colpa è sempre degli altri Il nord sarebbe come la svifera se non ci fosse il sud Il sud sarebbe libero, ricco e felice se il nord non l'avesse invaso La colpa è sempre degli altri Per l'8 settembre abbiamo trovato tre colpevoli perfetti Badoglio, il re e il principe Umberto Poi certo, come vedremo, Badoglio, il re e il principe Umberto ne hanno combinate di ogni colore Però se l'8 settembre ci sono gli angloamericani che sbarcano Salerno, avanzano da sud e i tedeschi che calano da nord Se l'Italia perde la guerra due volte, prima con gli angloamericani, poi con i tedeschi Se il nostro paese diventa un campo di battaglia e se scoppia una guerra civile Non è perché c'è stata una congiuntura astrale, ma perché Benito Mussolini aveva dichiarato la guerra contemporaneamente Prima all'impero francese e all'impero britannico, poi già che c'era anche agli Stati Uniti d'America e all'Unione Sovietica Tutto comincia il 10 giugno 1940, Mussolini dichiara la guerra dal balcone Attacchiamo la Francia con i tedeschi già a Parigi e non muoviamo un passo Abbiamo 2600 congelati a giugno Perché siccome era estate hanno dato ai nostri soldati le divise di tela Solo che bisognava combattere a 2000 metri E vicino al fronte a Torino c'è un ospedale che molti di voi conoscono, le Molinette Che aveva un reparto di cardiovascolare all'avanguardia Non se ne tenne alcun conto e in alta valsusa si segarono braccia e gambe di alpini che potevano essere curati I morti italiani sono 631 più 616 dispersi I morti francesi sono 37 La Francia rifiuta di darci l'armistizia perché dice che l'Italia ci ha dichiarato guerra ma non ce l'ha fatta Non soltanto, ma il peggio deve ancora venire Mussolini si è messo in testa di spezzare le reni alla Grecia Attacchiamo il 28 ottobre 1940, anniversario della marcia su Roma Un paese che non ci ha fatto nulla di male, senza motivo Mentre intanto in Africa gli inglesi stanno sopraffacendo il nostro esercito Il generale Graffiani si era illuso che fosse facile come contro i libici, come contro gli etiopi Contro cui aveva usato i gas e scrive a Mussolini Gli inglesi si accorgeranno presto che hanno a che fare col più poderoso esercito coloniale del mondo Una sciocchezza tale che persino Mussolini ordina che quella lettera non venga resa pubblica Non esca sui giornali, anche perché gli inglesi ci travolgono e mandano Montgomery manda un messaggio irridente a Londra dicendo abbiamo due acri di ufficiali italiani prigionieri Un disastro Il 28 ottobre il luce vuole spezzare le reni alla Grecia Signor Tenente, i greci sparano gli alpini della Iulia, non credono i loro occhi Avevano detto loro che sarebbe stata una marcia trionfale su Atene L'esercito greco non era più forte del nostro ma aveva una cosa che a noi mancava Aveva un motivo I greci si battono per difendere la patria e ci ricacciano in Albania Il duce si porta in Albania pilotando di persone al suo aereo per guidare la controoffensiva E si compiace nel vedere nel binocolo Weiss, omaggio personale del Führer Le cataste di alpini che si formano all'uscita delle trincee come nella grande guerra Eppure non riusciamo ad avanzare Devono intervenire i tedeschi con i carri armati che arrivano ad Atene in pochi giorni Dopo poco più di sei mesi la guerra parallela del duce è finita L'Italia è fuori combattimento Abbiamo perso su tutti i fronti la marina che è la migliore delle nostre tre armi Non riesce ad affrontare gli inglesi che arrivano a Taranto di sorpresa ci affondano mezza flotta A quel punto per salvarci abbiamo bisogno dei tedeschi La guerra parallela finisce, comincia la guerra insieme ai tedeschi Ma è chiaro che consegnandoci mani ai piedi dei tedeschi Diventa molto più difficile fare una pace separata quando le cose si mettono male Anche perché Mussolini continua a non capirci nulla Quando la Germania attacca l'Unione Sovietica Un po' in ritardo perché ha dovuto aiutare noi in Grecia Mussolini vuole esserci ad ogni costo E Hitler gli scrive una lettera dicendogli Duce, stanne fuori È molto difficile Sono giorni che circondiamo e annientiamo una divisione Sovietica dietro l'altra Ma si fanno massacrare fino all'ultimo uomo Ancora non vediamo segni di resa Abbiamo visto un carro armato che non sapevamo che esistesse di 56 tonnellate Tu hai delle scatole di sardina Stanne fuori E Mussolini insiste È ancora convinto che Hitler vincerà facilmente la guerra Intanto quelle poche migliaia di morti da gettare sul tavolo della pace Cominciano a diventare sempre di più E arriviamo all'estate del 1943 Il 25 luglio Perché cade proprio il 25 luglio il regime? Certo, gli alleati sono sbarcati in Sicilia E la resistenza è stata abbastanza debole I soldati siciliani sono tornati alle loro case La mafia ha dato una mano agli americani, come sappiamo Pantelleria, prima ancora dello sbarco in Sicilia Si era arresa senza sparare un colpo Era evidente che gli italiani non volevano più combattere Ma poi c'è un fatto nuovo Il 19 luglio viene bombardata Roma Il bombardamento di San Lorenzo Le altre città italiane Milano, Turino, Genova Ma anche Napoli, Foggia Erano state colpite molto duramente Ma Roma era stata risparmiata Quando i gerarchi vedono che anche la loro vita è in pericolo Che neanche la capitale è al sicuro E allora si decide di mandare a casa Mussolini Io credo che più che il voto del Gran Consiglio Sia stata fondamentale la decisione del Re Il Re capisce che la guerra è perduta E che l'unico modo per uscire dalla guerra Intanto è far fuori Mussolini al regime fascista Con l'aiuto dei più lungimiranti O dei meno obnubilati dei gerarchi E poi cercare di trattare la pace con gli angloamericani Il Duce viene arrestato Lo mettono prima su un'ambulanza Poi su un'auto con i vetri oscurati E gli raccontano che lo stanno portando a casa Alla Rocca delle Camminate Questo meraviglioso castello Che gli hanno regalato nella sua Romagna Però lui si rende conto che non si sta andando a nord Si sta andando a sud Lo portano a Gaeta E poi lo imbarcano verso Ponza E lui dice Mi stanno mandando a Ponza dove c'è Zaniboni Che attentò alla mia vita Aveva cercato di ucciderlo Il socialista Zaniboni Io non feci così nel 1922 In realtà aveva fatto di peggio nel 1922 Appena preso il potere Mussolini ordina la rappresaglie Contro gli abitanti di San Lorenzo Contro gli operai torinesi Fatto sta che lui arriva a Ponza E a Ponza oltre a Zaniboni C'è un altro socialista che Mussolini conosce bene Pietro Nenni Erano stati in galera insieme a Bologna Nel 1911 quando avevano protestato Contro la spedizione coloniale in Libia Lui Mussolini che poi di spedizione coloniale Ne è volute di nuovo in Libia in Etiopia E Zaniboni e Nenni Sanno che stanno per essere liberati E al confino dove lui gli aveva mandati Sta arrivando lui in persona Allora non stanno nella pelle E hanno anche loro un binocolo Passami il binocolo che arriva Ma è lui No, non è lui Non può essere lui così dimagrito No, ti dico che è lui E' veramente Mussolini che sta arrivando a Ponza Ma si ferma a pochi giorni Perché i tedeschi sanno che è caduto Mussolini L'Italia vuole sfilarsi dalla guerra E vorrebbero liberarlo L'Italia è già quasi nelle mani dei tedeschi Che sanno tutto di noi La Gestapo ha delle sue sedi in Italia Che neanche il nuovo governo Il governo guidato da Pietro Badoglio conosce Addirittura Hitler per un po' Pensa a un colpo di stato Per riportare i fascisti al potere O pensa addirittura a un attentato Per far fuori Badoglio Poi rinuncia in attesa degli eventi A sua volta Badoglio pensa di far fuori Mussolini Mussolini deve essere portato da Ponza All'isola Maddalena E Badoglio dice Che già ha fatto uccidere Ettore Muti Ex segretario del partito fascista Dice all'ammiraglio Maugeri che lo scorta Veda lei se riuscisse a dargli una spintarella L'ammiraglio Maugeri non dà al Duce la spintarella Però il Duce gli chiede Ma com'è che continuate a spostarmi da una prigione all'altra? E Maugeri gli risponde Perché abbiamo paura che i tedeschi vogliano liberarla Duce E usarla contro il nuovo governo E il Duce si indigna O finge di indignarsi Pensate veramente che io Mi metterei al servizio dei tedeschi Mai Invece è proprio quello che farà Mussolini nella Maddalena diventa amico del parroco Fa dire una messa In memoria del figlio Bruno Che era morto il 7 agosto di due anni prima In un uccidente aereo Che era il figlio prediletto Insieme ovviamente alla figlia Edda E si avvicina alla religione Dice io sono nato cattolico e romano E voglio morire cattolico e romano Si considera un uomo finito Poi un mattino gli dicono presto si parte Lo fanno salire su un aereo che atterra Un idrovolante che atterra nel lago di Bracciano E da lì lo portano sul Gran Sasso Mentre la moglie Rachele Mussolini E' ancora a Villa Torlonia E intuisce che il marito ha cambiato prigione Perché è arrivato un funzionario del regime Il questore Polito A chiedergli degli abiti pesanti Dei maglioni da sci Perché il Duce E' stato trasferito in alta montagna E lei le dà anche un cappellas Un cappellaccio Di quelli che portava Quando era un giovane socialista romagnolo Clara Petacci è stata arrestata L'hanno messa in galera Perché lei e la sua famiglia Avevano depredato il regime In ogni modo possibile Poi l'hanno liberata L'hanno mandata in un albergo Sul Lago Maggiore Rachele invece è rimasta lì A Villa Torlonia E un giorno torna al questore Polito E gli dice Dobbiamo andare a casa Nella Rocca delle Camminate Partiamo subito E nottetempo questo questore Cerca di violentare Rachele Mussolini Non ci riesce Però pensate che cos'era A che punto era arrivato il regime fascista Quest'uomo che magari aveva dovuto subire Angherie Ordine di ogni tipo del duce Cerca di rifarsi in qualche modo Sul sua moglie Cosa indubbiamente indegna Intanto il governo Badoglio Comincia cautamente a fare Quello per cui è nato La pace con gli angloamericani Ma veramente si muove in modo Incredibilmente lento e improvvido Il 12 agosto parte il generale Giuseppe Castellano Per Lisbona Dove c'è il comando alleato Per andare a dire agli alleati Trattiamo la resa Allora tu dici Oh ma Lisbona quando si suona Tre ore di aereo Ma lui va in treno E ci mette sei giorni di treno Ad arrivare a Lisbona Mentre l'Italia subisce bombardamenti durissimi Gli angloamericani intensificano i bombardamenti Sì perché vogliono indurre Badoglio alla resa A Milano viene colpita la Scala La Galleria L'Altare del Duomo Palazzo Marino Sede del Sindaco A Torino Bombardamenti durissimi Su Palazzo Carignano Su Palazzo Madama Vengono colpiti proprio i centri storici delle città Per farci più male possibile A Roma gli aerei americani scendono a mitragliare la popolazione E questo va a trattare la resa in treno E ci mette sei giorni Arriva a Lisbona E come prima cosa dice Non facciamo subito l'armistizio Voi sbarcate Magari non so Da una parte o dall'altra A Livorno e a Rimini Sconfiggete i tedeschi Poi facciamo l'armistizio E questi diranno Ma come? Se si state proponendo un'alleanza Ma senza dirlo E no Prima vi arrendete E poi facciamo l'alleanza contro i tedeschi E comunque L'unica cosa che gli angloamericani hanno da proporci E la resa senza condizioni Castellano torna a Roma con questo messaggio E ci mette altri cinque giorni Torna a Roma a riferire a Badoglio il 28 agosto La missione esplorativa è durata due settimane E il risultato si poteva dire in due secondi Resa senza condizioni Nel frattempo continua la commedia degli equivoci I tedeschi vogliono sapere le nostre intenzioni Allora Badoglio Che sa che i tedeschi vogliono ucciderlo Decide di organizzare un incontro Tra il ministro degli esteri Del nuovo governo Guariglia E il ministro degli esteri di Hitler Che è sempre lo stesso Ribbentrop Allora si vanno incontro in treno E però Guariglia ha un problema Perché Ribbentrop era solito Quando andava all'incontro con gli italiani Al momento dell'incontro Sporgersi dal treno E fare il saluto fascista E ovviamente gli italiani rispondevano Ma adesso Guariglia come farà? Il re si preoccupa Ma lei come lo saluterà? Maestadice in qualche modo farò Mi arrangerò Ecco la parola chiave è questa Arrangiarsi Guariglia assicura al suo omologo Ministro degli esteri tedesco Ribbentrop Che la guerra continua E il cambio all'ambasciatore a Roma Prima c'era Von Mackensen Che era figlio del maresciallo Von Mackensen Eroe della prima guerra mondiale Al suo posto arriva Rudolf Rahn Che diventerà di fatto il governatore di Roma E come prima cosa va a parlare con Badoglio Gli dice ma allora la guerra l'Italia la continua O vi arrendete e ci tradite E Badoglio dice Io sono uno dei tre marescialli più vecchi d'Europa Sono un maresciallo Pietro Badoglio A vecchi come me c'è soltanto Von Mackensen Il papà dell'ambasciatore che era seduto là prima di lei E Philippe Pétain Che sta reggendo Vichy Lo stato francese collaborazionista dei tedeschi Pietro Badoglio ha una sola parola Vi assicuro che continueremo a combattere con la Germania Fino alla vittoria o alla morte E qui dobbiamo fare un ingrandimento su uno dei protagonisti di questa giornata Che è Pietro Badoglio Badoglio non ha avuto soltanto dei meriti Non era uno stupido Era considerato all'epoca il più importante comandante militare italiano Nella prima guerra mondiale Badoglio è un mistero A volte è straordinario, a volte è irriconoscibile Una delle nostre poche vittorie è la presa del Sabotino Cui seguì la presa di Gorizia e fu merito di Badoglio Che infatti era il marchese del Sabotino Gli italiani presero il Sabotino in 38 minuti Avevano dei dischi bianchi disegnati sulla schena In modo che l'artiglieria non tirasse addosso loro come spesso accadeva Il re Vittorio Emanuele III si stette alla presa del Sabotino con il binocolo e commentò Sembrano le legioni romane Gabriele D'Annunzio scrisse Fu come l'ala che non lascia impronte Al primo grido aveva già preso il monte Però il marchese di Sabotino veniva chiamato anche il duca di Caporetto Perché Badoglio fu uno dei responsabili della rotta di Caporetto Non si è mai capito perché le sue artiglierie tacquero I soldati tedeschi e austrieci sfilarono sotto i cannoni di Badoglio E Badoglio non sparò Non si è mai capito perché qualcuno dice Era una trappola Voleva farli andare sotto nella valle Poi colpirli in modo che non potessero più tornare indietro Probabilmente i tedeschi avevano sabotato tutte le linee telefoniche E Badoglio non era riuscito Aveva detto sparate solo quando ve lo dirò io E i suoi cannoni tacquero Ma il vero mistero di Caporetto E' che mentre tutti gli altri furono fatti fuori A cominciare da Cadorna che venne destituito Badoglio viene promosso Diventa il vice di Armando Diaz Del nuovo comandante E ha un ruolo importante Badoglio Nell'organizzare la resistenza sul Piave, sul Grappa Quando c'è da riconquistare la Libia Mussolini chiama lui Quando c'è da conquistare l'Etiopia Prima chiama De Bono Fedele regiva Poi capisce che c'è bisogno di un soldato serio E chiama Badoglio Che pur tra mille atrocità Riesce a entrare ad Addis Abeba Ricordate i discorsi di Mussolini del 36 Oggi il maresciallo Badoglio telegrafa Oggi 5 maggio alle ore 16 Alla testa delle truppe vittoriose Sono entrato in Addis Abeba Fu il momento di massimo consenso del regime Poi Badoglio però Anche lui paga il disastro della seconda guerra mondiale E dopo il fallimento dell'attacco alla Grecia Viene messo a riposo Al suo posto viene promosso il suo grande nemico Ugo Cavallero Pensate che Badoglio era talmente perfido Che quando scappò dopo l'8 settembre Lasciò sulla sua scrivania Un memoriale firmato da Cavallero Che scriveva male dei tedeschi Qualche giorno dopo Cavallero si suicida O viene costretto a suicidarsi Era un uomo spietato Il suo attendente della prima guerra mondiale Ha lasciato detto che la sua colazione Era sempre un piatto di cipolle crude Stomaco d'astruzzo Passo veloce Magro Un giorno arriva al fronte Carlo Badoglio Figlio di suo fratello Suo nipote Lui lo manda in prima linea Il giorno stesso il ragazzo muore Lui non mette una lacrima E dice a mensa La sorta di Carlino Servirà a dimostrare che io non imbosco parenti La Vigilia di Caporetto Badoglio Va a fare un consiglio di guerra con Cadorna Che avviene in dialetto piemontese Eravano tutti i piemontesi Cavallero, Caviglia, Capello E mentre va in là Badoglio dice E' finita I tedeschi si spazzeranno via Ce la siamo data a intendere gli uni con gli altri Adesso è finita Poi affronta Cadorna E gli dice Cadorna che capiva che stava finendo tutto Dice mio padre prese Roma A me tocca perderla Lei Badoglio Lei cosa fa? E Badoglio dice A me non manca niente Ho tutte le armi Tutto opposto Mi manca solo un campo di prigionia Per chiuderci i tedeschi che finiranno nelle nostre mani Insomma un uomo dalla doppia faccia Per ingannare i tedeschi Non c'era nessuno migliore di lui Ed è per questo che il re lo mette lì Ed è per questo che Badoglio Fino all'ultimo giorno Nega che ci sia l'armistizio in corso In trattativa E assicura i tedeschi che la guerra continua Il problema è che i tedeschi non ci credono E cominciano a mandare truppe nel nostro paese E noi non abbiamo il coraggio o la forza di fermarle Queste truppe E intanto l'orologio accelera Il tempo si avvicina Il 3 di settembre Finalmente in aereo Lo stesso generale Castellano Che era andato in treno Ci aveva messo sei giorni a Lisbona Va in aereo a Cassibile In Sicilia E firma l'armistizio La resa incondizionata Come gesto simbolico Spezza un ramoscello d'olivo E lo dona a un ufficiale americano Resta da capire Quando rendere pubblico l'armistizio E gli americani dicono Prima lo facciamo Meglio è Rendiamo pubblico l'armistizio Noi sbarchiamo Non vi diciamo dove Ma sbarchiamo più in or possibile Prendiamo Roma E i tedeschi dovranno ritirarsi Però questo piano non convince gli italiani Che vogliono prendere tempo Perché? Perché vogliono ancora cercare di rabbonire i tedeschi E la segreta speranza di Badoglio E di mantenere la neutralità Noi ci arrendiamo gli angloamericani Ma non diventiamo loro alleati Non vogliamo essere nemici dei tedeschi Noi non siamo nemici dei tedeschi Siamo vittime della situazione E' chiaramente un'illusione I tedeschi chiaramente cercheranno di occupare l'Italia Perché se gli americani sono padroni dell'Italia Al Brennero c'è il confine Non esiste più l'Austria Gli americani sono un passo dalla Germania E i tedeschi questo non possono consentirlo Ma ci illudiamo sino alla fine Che i tedeschi non ci attaccheranno E che sia possibile uscire dalla guerra Senza combattere Senza schierarci apertamente con gli angloamericani E senza dichiarare guerra alla Germania Si le rivelerà una pericolosa illusione Ma anche il re fino all'ultimo Continua a fare il doppio gioco E non si rende conto della realtà Si non aiuta questo chiacchiericcio qui dietro Siete sentili Lo sentiamo un po' tutti Grazie Ebbene il re ancora l'8 settembre Assicura ai tedeschi Che il patto di alleanza Tra l'Italia e la Germania E per la vita e per la morte Mancano poche ore L'annuncio pubblico dell'armistizio Che è già stato firmato E lui ancora continua a dire ai tedeschi Che l'alleanza sarà per sempre 7 settembre Sbarca a Roma Maxwell Taylor Comandante dell'82esima divisione agiotrasportata americana Il capo dei paracadutisti americani Lui dice Stiamo per sbarcare Io vi do i miei uomini E teniamo Roma Così i tedeschi se ne vanno Però io devo far sbarcare dei paracadutisti Non li posso buttare giù col paracadutere Ho bisogno di aeroporti dove loro sbarcano con le armi pesanti E vi danno una mano e vinciamo tutti insieme Il problema è che i tedeschi hanno già preso gli aeroporti di Roma Il comandante tedesco è un bravo soldato Un uomo spietato ma un soldato molto bravo Albert Kesselring Che ha preso il posto di Rommel Il quale è stato esautorato Ed è il comandante delle forze tedesche in Italia Kesselring ha occupato i quattro aeroporti di Roma Che non erano Fiumicino e Ciampino C'era l'aeroporto dell'Urbe sulla Salaria L'aeroporto di Guidonia L'aeroporto di Cerveteri E l'aeroporto di Centocelle E quindi i para americani non possono atterrare Perché gli aeroporti li hanno i tedeschi E chi glielo dice a Maxwell Taylor? E allora lo portano in giro per Roma Li offrono cena Lo invitano a una festa data da alcune nobile donne Maxwell Taylor perde la calma Dice io non rischio i miei uomini Se voi non mi fate parlare con il capo dell'esercito italiano Che in teoria sarebbe il generale Ambrosio Capo di stato maggiore delle tre forze armate Che però non c'è E' a Torino Perché dice che ha dei motivi familiari Come si scrive sulle giustificazioni dei bambini Motivi di famiglia Poi dirà che è andato a distruggere certi documenti Allora lo portano da Giacomo Carboni Comandante della piazza di Roma Carboni dispone di sei divisioni Il meglio di quel poco che resta dell'esercito italiano 50.000 uomini 380 carri armati In questo momento attorno a Roma I tedeschi hanno preso gli aeroporti Ma non hanno molte truppe Hanno solo due divisioni Che sono più forti di quelle italiane Ma sono solo 30.000 uomini Con poco più di 100 carri armati In questo momento l'Italia Almeno a Roma Ha un'egemonia militare Con fronte dei tedeschi Però Carboni si spaventa Davanti a questo americano Di cui non capisce la lingua Che urla Dice no 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 Non facciamo niente Non possiamo Anzi facciamo così Aspettiamo ancora qualche giorno Non bisogna dire che abbiamo fatto l'armistizio E questo dice Guardate che la flotta americana È già a largo di Salerno Noi non possiamo aspettare Alcunché Anzi Se voi vi tirate indietro Noi bombardiamo tutta l'Italia Vi distruggiamo tutte le città Insomma il momento è drammatico Che si fa? Bisogna parlare con il capo del governo Bisogna parlare con Badoglio Ma nel frattempo Sono le due di notte E Badoglio Sta dormendo Allora gli dico Senta Facciamo così in generale Andiamo Vediamo ancora un bicchiere Andiamo a dormire Domani mattina E qui veramente Taylor va su tutte le furie Io voglio parlare con Badoglio Vanno a svegliare Badoglio Nessuno ha coraggio di svegliare Badoglio Suo figlio Mario Dice vabbè lo sveglio io Papà E dice papà Guarda qua c'è un americano Ti vuole parlare Badoglio lo riceve in pigiama E il bello è che Maxwell Taylor conosceva Badoglio Perché Badoglio nel 1921 era stato a West Point In visita agli americani E Maxwell Taylor, giovane cadetto, gli aveva presentato le armi Insomma i due si confrontano E Badoglio dice no Noi non possiamo combattere contro i tedeschi Non ce la sentiamo Vi prego annullate lo sbarco Non mandateci per cadutisti E aspettiamo ancora altri quattro giorni Prima di dire che c'è l'armistizio Maxwell Taylor consulta Eisenhower Eisenhower dice l'armistizio Sarà reso pubblico tra 12 ore A quel punto c'è una decisione drammatica da prendere Cosa fa l'Italia? Consiglio di guerra C'è anche il re E qualcuno da Cuarone Che è il ministro della Casa Reale Carboni comandante della piazza di Roma Gli dicono ma facciamo così Ritiriamo la firma E diciamo che non c'è nessun armistizio Però qualcuno ricorda che la scena della firma dell'armistizio Era moscello d'olivo e così Era stata filmata E quindi non si può dire no Non è successo niente E allora il re Taglia la testa al toro e dice No abbiamo perso la guerra Adesso lei Badoglio va alla radio E dice che abbiamo fatto l'armistizio Il re Vittorio Emanuele III Anche lì è una figura che non ha avuto soltanto demeriti Certo l'infamia di aver firmato le leggi razziali Quella è incancellabile Fino al 1922 Vittorio Emanuele III Potrebbe anche essere considerato un re Non dico progressista Ma riformista Il padre aveva decorato il generale Bava Beccaris Che aveva sparato con i cannoni a Milano Sugli operai in sciopero per il pane Vittorio Emanuele III Nonostante gli avessero ammazzato il padre Era stato un riformista Chi era il suo uomo di punta? Giolitti L'uomo del suffragio universale Purtroppo solo maschile L'uomo delle prime riforme L'uomo che crea un embrione di stato sociale Poi purtroppo nel 1922 Il re non ha avuto il coraggio di fermare i fascisti Il re ha chiesto Quando i fascisti stavano calando su Roma Il re chiede al maresciallo Diaz Il vincitore della grande guerra Posso contare sull'esercito, vero? E Diaz risponde Ma certo maestà Però sarebbe meglio non metterlo alla prova Come dire che sull'esercito Il re non può contare Perché troppi ufficiali simpatizzano per i fascisti Inoltre il re aveva il complesso di suo cugino Il duca d'Aosta Comandante dell'invitta terza armata Il re era brutto Il duca d'Aosta era un bell'uomo Il re era basso Lo chiamavano sciaboletta Perché avevano dovuto accorciargli la sciabola Per evitare che strisciasse per terra Era figlio di due cugini Era venuto male Il duca d'Aosta era un gigante E soprattutto il duca d'Aosta era fascista E quindi il re temeva che si mettesse d'accordo con Mussolini Per portargli via il trono Fatto sta che il re punta tutto su Mussolini E per un po' sembra andargli bene Quando le cose vanno male Troppo tardi il re ritira la fiducia a Mussolini E anche l'8 settembre purtroppo Non si rivelerà all'altezza della situazione Il notiziario della radio era le 19.45 Appena ricevuto l'ordine del re Badoglio in alto uniforme Va in via Asiago 10 Dove adesso c'è Fiorello Anche quest'anno non può più andare in via Asiago Ma si sposterà di poco Ma continua Insomma non so che sarà qua Sarà il clou del festival domenica Ebbene dove adesso c'è Fiorello Lì va Badoglio in alto uniforme A annunciare agli italiani Che la guerra è finita Solo che lui si presenta in anticipo Gli dicono no bisogna aspettare Ma come aspettare? Dai facciamo no no Adesso c'è la trasmissione per le truppe Vabbè aspettiamo Adesso c'è la musica Allora finalmente Il notiziario Il 19.45 si apre con Badoglio Che dice che gli italiani hanno chiesto l'armistizio Gli angloamericani hanno accettato La guerra è finita Ma risponderemo ad eventuali attacchi Da qualsiasi direzione E' chiaro che Chi può attaccarsi? I tedeschi Però Badoglio non se la sente di scrivere Resisteremo a qualsiasi attacco tedesco A qualsiasi attacco da altre direzioni Cioè non dagli angloamericani Ma da altri Ambrosio Capo di stato maggiore delle tre armi Aveva detto Sì sono tedeschi Però è meglio che aspettare Che i tedeschi sparino per primi Il problema è che i tedeschi Sono abituati a sparare per primi La radio ha annunciato l'armistizio I tedeschi mandano un addetto militare Il generale Toussaint Cognome francese Dal capo di stato maggiore dell'esercito Generale Roat A dire Ma vi siete resi? La radio ha detto che c'è un armistizio E Roat dice Armistizio? Quale armistizio? Io non ne so niente Cioè fino all'ultima Abbiamo negato l'evidenza Toussaint torna all'ambasciato Per dire no Dice che non è vero niente E vede che Già stanno bruciando i documenti Stanno preparando ad andarsene A quel punto Roat gli telefona E dice Vi do la mia parola d'onore Che io davvero Quando vi ho detto che non era vero niente Non sapevo nulla E il tedesco gli sbatte il telefono in faccia La commedia degli equivoci E' finita I tedeschi calano su Roma Il generale Carboni Azzinché affrontarli Scappa In Borghese E ripiega Prima su Tivoli Poi va Non si capisce bene dove Dove voglia andare Perché voglia farlo Fatto sta che il generale Carboni Si dilegua E Roma resta in difesa Il re lascia il Quirinale E va poco distante Al ministero della guerra In via 20 Settembre Notte Da Tregenda Si aspetta che arrivino i tedeschi Da un momento all'altro Il re e la regina Si assopiscono Alle 4 del mattino Si sente il cannone I tedeschi Stanno arrivando Badoglio dice Questi qua Ci tagliano la testa Dobbiamo scappare Il re è d'accordo Alle 5 del mattino E' ancora buio Quando il Fiat 2800 del re Si mette in marcia Seguita dalla berlina personale Della regina Su cui viaggia Badoglio In Borghese Viaggia Ambrosio In Borghese Roatta In Borghese Cioè i generali Stanno veramente scappando Senza neanche la divisa addosso Il principe Umberto Vorrebbe rimanere Ma il re dice Non se ne parla neanche Tu vieni con noi Si fermano per riposarsi In un castello Lungo la strada Lungo la Tiburtina Voi dite Perché non hanno preso l'aereo? Non hanno preso l'aereo Perché la regina ha l'asma E ha un'alta quota Se le prende l'affanno E non può salire in aereo E quindi si va in macchina Si fermano In questo castello E qui c'è Una duchessa La duchessa Caetane d'Aragona Che è amica di Re Umberto Il principe Umberto Gli dice Ma Umberto ma cosa stai facendo? Non capisci Che questa fuga È la fine della monarchia Se tu scappi da Roma Non diventerai mai re Tutta la tua famiglia Sarà travolta dal discredito Tu padre ormai È vecchio Anziano Screditato Ma tu puoi ancora salvare L'Italia La corona Tu devi tornare a Roma E lui Risponde A quell'amica In francese Mon père Ne veut pas Mio papà Non vuole Molto spesso Si usa una lingua straniera Per dire delle cose Che non abbiamo coraggio Di dire nella nostra lingua E allora si riparte Verso Ortona Verso la costa abruzzese Dove c'è una nave Che aspetta per portare Il re in Puglia Che è già liberata Ma Re Umberto Ha un ripensamento E affronta il padre E gli dice Io torno indietro E il padre gli risponde In piemontese Se ti mat' Sat piu At masu Se ti prendono Ti ammazza E lui piega la testa E riprende la fuga Da Roma Parte un giovane ufficiale Raimondo Lanza di Trabia Fidanzato di Susanna Agnelli Un brillante aristocratico siciliano Cresciuto da una nanna inglese Lui e suo fratello Galvano Facevano un po' di interpreti Con gli angolo americani Perché parlavano bene l'inglese E lui Arriva al ministero della guerra E vede che non c'è più nessuno Sono scappati tutti Dice ma dove sono andati? Eh sono preso Sono andati di là Sulla Tiburtina Si mette in macchina Come un matto a inseguire il corteo E lo trova fermo A un passaggio a livello Non ha il coraggio Di bussare la macchina del re Bussa la macchina Di Badoglio, Roata e Embrose E chiede Ma cosa dobbiamo fare noi a Roma? La risposta è Arrangiatevi Ecco Quell'arrangiatevi Può essere La parola chiave Dell'8 settembre Intendiamoci Che il re abbia lasciato Roma Non è in sé uno scandalo Tutti i sovrani dei paesi In base ai nazisti Se ne sono andati dalla capitale Per assicurare la continuità Della dinastia e dello stato Per dire La vera Olanda sono io La vera Grecia sono io La vera Italia sono io La regina Guglielmina d'Olanda Andò a Londra Il re Giorgio di Grecia Andò prima a Creta Che era l'unico lembo di Grecia Ancora libero Poi quando i tedeschi Con i precodotisti Presero Creta Se ne andò Prima in Egitto Poi in Londra anche lui E ci stava Che il re Vittorio Emanuele Andasse in un lembo di Italia Già libero Per garantire la continuità dello stato Ma è il modo È il modo rocambolesco della fuga Ed è la gravissima responsabilità morale Di aver lasciato i soldati italiani Senza ordini Senza disposizioni Un conto è dire Reagite agli attacchi D'accordo Ci mancherebbe altro Ma devi dirmi dove vado Cosa devo fare Dove devo attaccare Dove devo difendermi Arrangiatevi La risposta è questa E allora lì si vede il valore Lì si vede il coraggio Lì si è nel momento della scelta Cosa faccio? Vado a casa? Mi metto a servizio dei tedeschi? O cerco di combattere i tedeschi invasori Nella speranza di preparare la libertà La democrazia Tantissimi fanno questa scelta Per questo è inaccettabile Parlare di morte della patria Come fai a parlare di morte della patria Quando a Cefalonia I soldati italiani Tengono un referendum E bisogna decidere O ci arrendiamo i tedeschi O ci battiamo Questo è un embrone di democrazia E' lì che comincia la resistenza Tra i militari di Cefalonia Altro che resistenza Una cosa rossa Altro che se sei antifascista Sei comunista Questo è un gigantesco imbroglio Certo che c'erano anche i comunisti E poi c'erano i liberali I monarchici I cattolici I militari I carabinieri Le donne I sacerdoti Ci furono tanti modi Di dire no al nazifascismo E il primo a dire di no al nazifascismo E il generale Gandin Che indice un referendum Tra i suoi uomini Volete arrendervi Volete combattere E la grande maggioranza dice Non ci arrendiamo Vogliamo combattere E a Cefalonia Gli italiani vincono all'inizio Poi arriva la Luftwaffe Con i bombardamenti I tedeschi vincono la battaglia E gli italiani Che non sono morti Non si sono arresi Vengono uccisi Trucidati Assassinati Con un colpo alla nuca Più di 5.000 fucilati Con un colpo alla nuca Secondo voi Se voi andate Non dico in un asilo Non dico in una scuola elementare Non dico in una scuola media Non dico in un liceo Se voi andate in un'università Quanti ragazzi sanno raccontare Cosa è successo a Cefalonia? Io temo nessuno Quasi nessuno Eppure è una pagina straordinaria Il coraggio degli italiani di Cefalonia Tra i caduti in combattimento I fucilati con un colpo alla nuca E quelli che poi vengono caricati su navi Destinate ad essere affondate Parliamo di 9.500 morti Una tragedia del tutto assente Dalla memoria nazionale La maggioranza degli aerei Raggiunge i campi in Sicilia La maggioranza delle navi Parte per Malta Quindi la maggioranza dei militari E' fedele al re Non sta con Hitler E lì si consuma sempre per imperizia La tragedia della corazzata Roma La corazzata Roma era la più importante unità Che era rimasta al nostro esercito Oltre 2.000 uomini di equipaggio L'ammiraglio inglese Cunningham Che comandava nel Mediterraneo Dice partite subito Non ce la farete Loro stavano alla Spezia Non ce la farete ad arrivare a Malta Ma potete arrivare alla Maddalena Lì vi consegnate a noi Agli inglesi E vi salvate Evitate i tedeschi Solo che anziché partire Al tramonto dell'8 settembre La corazzata Roma Parte alle 3 del mattino Del 9 Perde una notte preziosa Inoltre finché andare sud o verso sud Va verso ovest A Genova Quindi in queste stesse acque Per unirsi ad altre navi E tutte queste navi italiane Cominciano ad andare verso sud Ma ormai è pieno giorno E sono un bersaglio molto facile Per l'aviazione tedesca Stanno arrivando alla Maddalena Ma una piccola unità tedesca Ha occupato la base della Maddalena Non siamo riusciti a tenere neanche quella Allora Cunningham dice Venite in Algeria Dove c'era già il controllo anglo-americano Solo che Fatti pochi chilometri Poche miglia All'argo dell'Asinara La Luftwaffe L'aviazione tedesca Avvista il convoglio E i primi colpi vanno a vuoto Poi la corazzata Roma Viene centrata in pieno Esplode I marinai vengono disintegrati Parliamo di 1393 morti E quando seguivo Carlo Zeglio Ciampi Lui ci portò sul posto dove era fondata la Roma Ci portò a Cefalonia Ci portò anche l'Alamein E dimostrò concretamente Che non è vero che l'8 settembre sia morta la patria L'8 settembre si dissolve lo Stato Semmai Lo Stato fascista si era già dissolto il 25 luglio Senza che nessuno cercasse in qualche modo di difendere il Duce E poi l'8 settembre di fatto muore la monarchia La fuga è davvero in vereconda Si arriva a Ortona E bisogna salire su questa nave Che si chiama Baionetta Che porterà il re e il seguito a Brindisi Solo che non si riesce a salire direttamente sul Baionetta E bisogna salire su un peschereccio Che si chiama Littorio E con l'odore del pesce Il re e la regina Il principe Umberto Salgono sul Baionetta Ci sono soltanto 54 posti E ci sono troppi generali Troppi dignitari Che vogliono salire Il re vuole assolutamente Che Pierino e Rosa Le cameriere personale della regina Siano a bordo con tutti i bagagli E poi c'è questa ressa in vereconda Di gente che si spintona Che sgomita Che vuole assolutamente salvarsi E salire sul Baionetta Insomma è davvero una pagina nera Però nelle stesse ore A Roma A Porta San Paolo I soldati della divisione a Riete I granatieri di Sardegna I lanceri Insieme col popolo Con i cittadini romani Cui Carbone aveva fatto distribuire Prima di scappare un po' di armi Resistono i tedeschi E c'è una battaglia aspra Con centinaia e centinaia di morti Insieme militari e civili Soldati e popolani E quella fu un'altra pagina straordinaria E la resistenza comincia al nord Dove le prime bande partigiane Non sono formate da bolshevichi Sono formate da ufficiali degli alpini Come Nuto Revelli Reduci dalla Russia Che avevano visto quello che facevano i tedeschi E i prigionieri russi Quello che facevano i tedeschi e gli ebrei E avevano tenuto da parte le armi Perché sapevano che prima o poi Avrebbero dovuto usarle contro i nazisti invasori E lo hanno fatto I nazisti fanno capire subito Che combatteranno una guerra terroristica Arrivano a Boves Spianano il paese Lo bruciano Arrivano a parlamentare Il parroco L'industria del paese Vengono uccisi Decine di morti E si capisce subito Che l'occupazione tedesca Sarà terribile Eppure Fin dall'inizio Comincia la resistenza 800.000 soldati italiani Vengono fatti prigionieri Dopo l'8 settembre Alcuni Come abbiamo visto Si battono Non soltanto a Cefalonia Non soltanto a Lero Non soltanto a Nizza In tanti altri posti Perché poi gli inglesi E gli italiani e i francesi Uffa Sono travolti Anche lì Il comandante tedesco All'ordine Di fucilare Quelli che si sono arrese Con un colpo alla nuca E il comandante tedesco Rifiuta Dice Non possiamo fare queste cose E non gli succede niente Anzi il provante Sarà pure promosso Segno che a volte Disobbedire A ordini inumani Era possibile 800.000 soldati italiani Vengono fatti prigionieri Portati in Germania Chiusi nei lager Spogliati Affamati Avvannati dai cani lupo Poi viene dato loro da mangiare Viene data loro una divisa E viene loro detto Siete liberi Potete tornare a casa Però dovete impegnarvi A firmare qua A combattere per noi Per i tedeschi Oltre 600.000 La grande maggioranza Dice no E preferisce restare Nei lager nazisti Dove in 60.000 Moriranno di fame E di stenti Pur di non andare a Salò A combattere altri italiani A fianco di Hitler Tra di loro C'era di tutto C'era l'esercito italiano C'era Alessandro Natta Futuro segretario Del partito comunista Che scriverà un libro Su questa storia Intitolato Non a caso L'altra resistenza Perché anche quel no Detto ai tedeschi In condizioni drammatiche Fu resistenza E tra loro C'era Giovanni Guareschi Anticomunista di Ferro Il papà di Don Camillo Peppone Che nel suo diario L'ha scritto Io a Salò C'era il papà Di Vasco Rossi Che si chiamava Giancarlo Rossi Camionista Militare Viene fatto prigioniero Portato in Germania Il campo in cui è prigioniero Giancarlo Rossi Con i suoi amici I suoi compagni Viene bombardato dagli americani Lui cade in una buca Scavata da una bomba Sta morendo Il suo migliore amico Vasco Lo prende di peso Lo tira su Gli salva la vita E Giancarlo Rossi Gli dice Se avrò un figlio Lo chiamerò come te Vasco Vasco Rossi Sono gli internati Militari italiani In Germania Di loro Non si parla mai Anche se anche loro Sono ricordati Nella giornata Della memoria Che ricorda tutti I deportati Nei campi di sterminio Tedeschi A cominciare ovviamente Dagli ebrei Gli ebrei italiani La caccia Gli ebrei italiani Comincia subito Andrea Riccardi Ha scritto un libro Molto importante Su quello che accade a Roma All'indomani Dell'8 settembre Perché prima I tedeschi Prendono in giro Gli ebrei E li costringono A raccogliere 50 chili d'oro Dicendo Se ci date 50 chili d'oro Non vi facciamo niente Poi Dopo aver raccolto l'oro Il 16 ottobre 1943 I tedeschi Vanno nel ghetto Il più antico ghetto Del mondo A Roma C'è la più antica Comunità ebraica Che era lì Giulio Cesare Oltre mille Ebrei romani Partono per Auschwitz Soltanto 16 Faranno ritorno Una sola donna Nessuno Degli oltre 200 bambini Portati ad Auschwitz Ma la razzia Del ghetto di Venezia Quella la fecero i tedeschi Con le liste di ebrei Compilate Consegnate dagli italiani Ma la razzia Del ghetto di Venezia 350 deportati Mai tornati Fu opera Di fascisti italiani Il segretario di Stato Giovanni Battista Montini Futuro Paolo VI Ordina Al clero romano Di nascondere gli ebrei Che sono riusciti a fuggire Di proteggerli Vengono accolti Nel seminario Lombardo Nel convento di San Paolo Fuori le mura E i sacerdoti Danno agli ebrei Le loro Vesti italari I frati Danno i loro sai E quando i fascisti Entrano nel seminario Entrano nei conventi Fanno a dire Tutti le preghiere Quelli che sanno le preghiere Sono considerati buoni cristiani Quelli che non sanno le preghiere Qualche ebreo Aveva imparato L'Ave Maria Al Padre Nostro Per salvarsi la vita Essere salvata Quelli che non sapevano Le preghiere Anche se indossavano Una tonaca Un saio Vengono portati a morire Nei campi di sterminio E lì vedi Vedi l'uomo Vedi Vedi come C'è quello che Vendeva gli ebrei Per denaro E quello che Si è fatto uccidere O rischiato comunque La vita Per salvare un ebreo Ecco questa è una cosa Molto importante Il carattere plurale Della resistenza E un'altra cosa Su cui Ciampi Ha insistito molto Tra i partigiani C'erano comunisti Socialisti Azionisti Anarchici E c'erano liberali Monarchici Cattolici E tanti ragazzi Di vent'anni Che non sapevano Neanche cosa fosse Un partito Erano cresciuti Con il fascismo Convinti Che il fascismo Fosse d'Italia Ma non volevano più Combattere per Italia Mussolini E il generale Graziani Che dopo il suicidio Di Cavallero Prende il comando Dell'esercito di Salò Emana i bandi Tutti i giovani italiani Devono presentarsi A combattere Al fianco di Hitler E lì avviene la scelta C'è chi ci va convinto Spesso pensando in buona fede Di fare una scelta giusta Per la patria E tanti Non mi piace Chiamare i ragazzi di Salò Perché è una cosa Un po' assolutore Comunque tanti soldati Di Salò Morirono Gredando viva l'Italia Segno che Anche questo è un segno Che la patria non era morta Che gli italiani Anche quelli che sbagliavano Continuavano ad amare l'Italia E poi questo no Ai navi fascisti Non fu detto solo dai partigiani Fu detto da molti religiosi Il cardinale di Firenze Lì a Dalla Costa Crea una rete Per salvare gli ebrei Ne ha oltre 200 Nascosti ad Assisi In un convento E ha bisogno Di mandare qualcuno Con dei documenti falsi Che consenta Agli ebrei di andare liberi E l'Italia sarebbe Se andasse in bicicletta Così non da nell'occhio Chi è che può andare In bicicletta Da Firenze ad Assisi Che sono 200 chilometri Dice Ci sarebbe un certo Gino Bartali Pare che va a parlare Piuttosto bene Molto cattolico Il cardinale lo convoca Dice Gino Te la senti ad andare Con questi 200 documenti falsi Nascosti nella bicicletta Ad Assisi Dice sì Ma se mi beccano Cosa mi fanno? Ti fucilano sul posto E Gino Bartali Prende parte Lui aveva già vinto Il Tour de France Il Giro d'Italia E va a rischiare la vita Per salvare 200 E passa ebrei Che non ha mai visto Né conosciuto A Genova Il cardinale Siri Nome che a molti di voi Dice qualcosa Siri non era un bolshevico Non era neanche un prete progressista Come Montini Siri era il capo Dell'ala destra Della schiera italiana Siri è un giusto Tra le nazioni Siri ha rischiato la vita Per salvare gli ebrei Perché la scelta Tra il nazifascismo E i suoi avversari Non è una scelta Tra destra e sinistra È una scelta Tra barbarie E civiltà Il nazifascismo Il nazifascismo fu sconfitto Da uomini di destra Come Winston Churchill Come Charles de Gaulle Sono stato quest'estate In un posto dove non ero mai stato Sulla tomba di De Gaulle A Colombelle des Eglises De Gaulle è sepolto accanto alla moglie Si chiamava Yvonne Donna molto cattolica E ha la figlia Anne Che ha vissuto da solo vent'anni Lui... De Gaulle amava profondamente la figlia E la figlia aveva la sindrome di Down I bambini Down, i nazisti Li mandavano delle camere a gas Fino a quando il vescovo di Magonza Non un bolshevico Un vescovo che aveva Andrea ti ricordi Era un aristocratico Era un conte Dal pulpito Disse stanno ammazzando i bambini Down Facciamoli smettere Poi ci fu una riunione Nel partito nazionale socialista tedesco Cosa facciamo di questo vescovo ribelle? Uno disse impicchiamolo Goebbels Che era un criminale Ma non era uno stupo Dice no impiccare un vescovo È un errore Non facciamo De Gaulle Era uno che quando spirò tra le braccia La sua figlia Anne Aprì un istituto Per accogliere i bambini Down Che i nazisti mandavano nelle camere a gas Civiltà barbarie Cosa fa il Duce nel frattempo? Il Duce viene liberato Qualcuno dice C'è stato uno scambio I tedeschi hanno lasciato andare il re Attraverso tutta l'Italia Dal terreno all'Adriatico L'ha lasciato andare E in cambio Nessuno ha mosso un dito Per evitare la liberazione del Duce Prove di questo scambio non ce ne sono È vero che moltissimi documenti Sono stati bruciati e distrutti Però è anche vero che io penso che Le cose a volte sono molto più semplici Di come le raccontiamo Non c'è bisogno di fare del complottismo Semplicemente la chiave per capire L'8 settembre è la paura Ci tagliano la testa Satpio Otmasu Gli italiani sono terrorizzati Soprattutto il re Soprattutto Badoglio Soprattutto i generali Hanno una paura fisica di Hitler tremenda Sanno di quale ferocia e capace Adolf Hitler E quindi quando Otto Scorzeni Si presenta a campo imperatore Per liberare il Duce C'è questo avventuriero Che aveva guidato sette allianti Che erano arrivati Prodigiosamente in cima al Gran Sasso Ecco che i carabinieri Non sparano un colpo E gli consegnano il Duce I tedeschi hanno un generale italiano Come ostaggio Lo portano in avanti E Mussolini grida Non sparate Non vedete che c'è un generale italiano E Otto Scorzeni Di fa il saluto militare Mussolini dice Ero certo che Hitler Non mi avrebbe abbandonato Che mi avrebbe dato Questa prova di amicizia Anche lì Mussolini Noi siamo molto Indulgenti con Mussolini Siamo sempre pronti Di giustificarlo E poverino Si è messo a servizio di Hitler Si ma l'ha fatto per il nostro bene Hitler ci avrebbe trattato ancora peggio E' stato costretto a farlo Cos'altro poteva fare? Non lo so Edda Quando lo affrontò Gli disse Posso perdonarti soltanto Se scappi all'estero O se ti togli la vita Lui non farà né una cosa Nell'altra Farà quello che aveva escluso Di voler fare Si metterà al servizio di Hitler Viene portato in Germania In Germania arrivano anche Rachele Con i figli piccoli Con Romano Vittorio E Anna Maria E Fra l'altro la povera Rachele Scopre soltanto allora Che Mussolini è un amante Perché Irma La governante di casa Glielo dice Cioè subisce due affronti Rachele Quella del questore Polito Che cerca di approfittarsi di lei E La cameriere Che le dice Non si sa se per amici Per fedeltà O per vendetta Che il marito Da sette anni Frequenta una donna Molto più giovane Il marito di Irma La schiaffeggia Non dovevi L'hai tradito il Duce Non dovevi farlo Beh insomma Lei ci resta male Però in quel momento Altro per la testa La famiglia si riunisce in Germania Ciano Sa che i tedeschi Vogliono fargli la pelle Sa Dovrebbe sapere che i tedeschi Vogliono fargli la pelle Però Ingenuamente Va all'ambasciata tedesca E chiede un aereo Per la Spagna Dove c'è Franco Un regime amico I tedeschi Sì sì ti portiamo noi In Spagna Lo fanno salire sull'aereo E lo portano in Germania E Hitler pretende Che Ciano E tutti i gerarchi Che hanno votato Contro Mussolini Nel Gran Consiglio del Fascismo 25 luglio Vengano fucilati E quindi Mussolini Fa fucilare Certo Su ordine di Hitler Ma senza fare nulla Per salvarlo Fa fucilare Il marito di sua figlia Il papà Dei suoi nipoti Poi comincia Una pagina Che voi conoscete bene Quella della guerra civile Della resistenza Io tengo molto A sottovalutare Davvero questo carattere Plurale della resistenza Perché Ad esempio Non tutti sanno Che i carabinieri Hanno fatto la resistenza Migliaia di carabinieri Dopo l'8 settembre Vengono deportati In Germania E tanti Combattono Accanto ai partigiani 12 carabinieri Vengono trucidati Alle fosserdeatine Tra loro C'era Giovanni Frignani Che era il carabiniere Che dopo il 25 luglio Aveva arrestato Mussolini Alle fosserdeatine Muore Il colonnello Montezemolo Che era stato testimone Dell'8 settembre Ed era passato Dalla parte degli angloamericani Cercava di aiutarli Fu preso Gli cavarono le unghie Gli strapparono i denti Ma non parlò Non fece un solo Nome dei suoi compagni E prima del colpo La nuca Alle fosserdeatine Riuscì a gridare Viva l'Italia A Fiesole Tre carabinieri Fulvio Sbarretti Vittorio Marandola E Alberto Larocca Combattono insieme Con i partigiani E questo i tedeschi Non lo possono accettare Fanno prigionieri Dieci abitanti di Fiesole E dicono Li ammazziamo Se i carabinieri Non si presentano C'era già stato Il sacrificio Di salvo d'acquisto Questo però È un fatto meno noto Questi tre carabinieri Fanno un piccolo consiglio Di guerra E decidono Di presentarsi E vanno a farsi Vanno a farsi uccidere In una domenica Piena di sole Per salvare la vita A dieci ostaggi Che non hanno mai visto Ne mai vedranno Perché i tre carabinieri Vengono chiusi In uno stanzino Accanto allo stanzone Dopo ci sono i dieci ostaggi I quali sentono Solo gridare Viva l'Italia E poi tre raffiche Di mitra E tre colpi Di grazia Alla nuca A Milano A San Vittore Il carcere Si riempie di prigionieri Dei tedeschi Tra di loro Ci sono dei pericolosi Rivoluzionari Come Mike Bongiorno E Indro Montanelli E il capo Dei La capa delle suore E una suore Si chiama suore Enrichetta Alfieri Neanche lei era bolshevica Ma è una donna Di fede Che quando vede Questi prigionieri Questi ebrei Portati a San Vittore Si schiera dalla loro parte Fa uscire i loro messaggi Dal carcere Fa uscire anche qualche prigioniero In carne ed ossa Viene presa Condannata a morte Per una volta Mussolini Fa una cosa buona E dice No, non fucilate una suora No, ricordatevi Di quando volevate impiccare Il vescovo di Magozza Non fucilate la suora E viene comunque fatta prigioniera E poi dopo Sarà liberata Dopo l'8 settembre E quando muore E poi negli anni 50 C'è il processo di beatificazione Dove vengono chiamati A testimoniare Mike Bongiorno Che era un ragazzino E Indro Montanelli Montanelli dice Una frase bellissima Dice Certe cose Potevano farle solo I santi O gli eroi E suora Enrichetta Era entrambe le cose insieme Era una santa ed era un eroe Dopo quella frase La fecero subito santa Mentre Il parroco Di un altro Sempre a Fiesole Il parroco Di Castelnuovo dei Sabbioni Una frazione dell'Apenino Toscano Don Ferrante Bagiardi Quando vede Che stanno per fucilare 89 suoi parrocchiani Offre la sua vita In cambio di quella dei fedeli Gli dicono No, dobbiamo fucilare lo stesso E allora lui Sceglie Di morire Con i suoi parrocchiani Dicendo Vi accompagno io Davanti al Signore Potrei raccontarvi Moltissimi episodi Come questi Molti dei quali Accaduti qui In Liguria All'abbazia della Benedicta Vengono fucilati Centinaia di partigiani Insomma Non è vero Che l'8 settembre Segni La morte della patria Certo Fu una catastrofe Fu la fine della monarchia Ma in un certo senso È possibile anche Affermare il contrario È possibile anche affermare Che la patria Quel giorno sia rinata La monarchia Accade definitivamente Il 2 giugno 1946 Quando finalmente Anche le donne italiane Poterono votare Perché le donne Avevano dato un grande contributo Alla riconquista Della libertà E della democrazia Voglio citare Accanto a tanti nomi Che potremmo fare A cominciare da quello Di Tina Arselmi Voglio citarne uno per tutti Il nome di Cleonice Tomassetti Un nome che oggi Non dice molto A quasi nessuno Ma se digitate su Google Questo nome Cleonice Tomassetti Vedrete una foto Di una bella donna Giovane elegante Che è la prima Di un drappello Di 43 uomini Che stanno andando A farsi fucilare In riva al Lago Maggiore Ma quegli abiti eleganti Non sono suoi Lei indossava Degli stracci Sporchi del sangue Delle torture Sono gli abiti Che le mogli Degli altri condannati A morte Le hanno regalato Per consentirle Di andare incontro Alla fine Con dignità E sarà lei Cleonice Tomassetti A fare coraggio Agli altri Sino alla fine Goebbels In quei giorni Scrive Che Il duce È stato L'ultimo romano Ma dietro La sua potente figura Un popolo di vingari Finirà Per imputridire Possiamo dire Con un certo sollievo Una certa soddisfazione Che Goebbels Aveva torto Che Dopo la fine Del fascismo Comincia una storia Certo Contradditoria Siamo tutti delusi Della politica Siamo tutti delusi Dei partiti Però poi Nell'inizio del 48 Entra in vigore La costituzione repubblicana Scritta da tutti i partiti Senza che I liberali I cattolici I socialisti I comunisti Volessero imporre La propria visione agli altri Ognuno porta qualcosa E insieme Scrivono L'articolo 3 Della costituzione repubblicana Il quale prevede Che tutti i cittadini Sono uguali Di fronte alla legge Senza distinzione Di razza Di sesso Di lingua Di religione Di opinioni politiche E di condizioni personali E sociali L'articolo 3 Della costituzione Rappresenta Il rovesciamento Del fascismo Per il fascismo Gli uomini Italiani Non erano tutti uguali I maschi Valevano più delle femmine I bianchi Dei neri Chi parlava italiano Di chi parlava tedesco O ladino O sloveno Gli omosessuali Gli eterosessuali Degli omosessuali I fascisti Degli antifascisti E al di là Di Tanta retorica Che è stata fatta Io credo Che Il regime fascista Alla fine Si sia scarato Sempre dalla parte Di forti Contro i deboli La parte dei latifondisti Contro i braccianti Dalla parte Dei padroni Contro gli operai E quindi io credo Che Dobbiamo Avere uno sguardo critico Su noi stessi Sulla storia Però Penso Nello stesso tempo Che dobbiamo anche Rivalutare Le sofferenze E anche il coraggio Che tanti Dei nostri nonni Dei nostri bisnonni Hanno dimostrato Vorrei chiudere Siccome Abbiamo parlato Di questa pagina Dolorosa Che è l'8 settembre Che poi Si presta anche A qualche risata amara Abbiamo tutti in mente Tutti a casa No? Quando Alberto Sordi Che non ci capisce nulla Ci sparano tutti addosso I tedeschi Se sono alleati con gli americani Ci sono episodi Da commedia dell'arte Con cui potrei Direttarvi a lungo Pensate che Il 4 settembre Viene arrestato Un uomo Con l'accusa Di aver urlato Viva gli inglesi Viva gli americani E gli danno Sette anni di galera Per dimostrare I tedeschi Vedete Vedete Questo ha parlato male di voi Vediamo Sette anni di galera Dopo tre giorni Era libero Perché c'era stato L'8 settembre Quindi Viene fuori un po' Anche l'aspetto A volte folcloristico Di noi italiani Che cerchiamo sempre Di salvare la pelle Però poi viene fuori Anche il coraggio La dignità E anche l'amore di patria Dopo l'8 settembre Viene il 25 aprile E lo spirito Della resistenza Della rinascita Della ricostruzione Io l'ho trovato In una lettera Di una giovane donna Anna Enrica Filippini Lera Una donna Che era un antifascista Romana Era stata messa In carcere a Regina Celi Poi deportata In Germania E quando viene liberata Dagli americani Scrive una lettera Al padre Dice Caro papà Sto benissimo Sono in gran forma In realtà stava letteralmente Morendo di fame Poi dice Sappiamo che l'Italia È a pezzi Ma la ricostruiremo Il futuro ci appartiene Siamo giovani Il lavoro non ci spaventa L'entusiasmo non ci manca Ricostruiremo le nostre vite E sarà meraviglioso Questo è lo spirito Che i nostri nonni Hanno saputo ritrovare Dopo la notte Del antifascismo E della guerra E questo è lo spirito Che auguro A me stesso Ai miei figli E a tutti quanti voi Di ritrovare questo momento Così difficile Vi ringrazio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti